Yo Willers, buah a tutti e bentornati sul canale, come sempre qui è il vostro Alas che vi parla, piacere di rivedervi. Siamo qui per l'episodio numero 35 della nostra carriera con la 1&1 Racing Team guidata dalla Sadramson su Motorsport Manager. Siamo qui per un gran premio che è fondamentale per valutare quali sono i nostri reali obiettivi per questa seconda stagione in Formula 2. Gran premio di Sakhir, Bahrain, primo evento per noi in questa nuova stagione. Ovviamente se non avete visto l'ultimo episodio, la pre-season di questa season 5 o seconda stagione in Formula 2, non perdete tempo, cliccate nell'angolo in alto a destra e recuperatelo prima di ricevere spoiler per questo determinato episodio. spoiler che in effetti sono abbastanza pochi perché naturalmente noi stessi non sappiamo cosa aspettarci da questo gran premio. Sappiamo di essere a metà classifica come valore della nostra vettura, sappiamo di avere obiettivi molto importanti, visto che abbiamo raggiunto il secondo posto nel campionato piloti e nel campionato costruttori nella scorsa stagione, quindi quest'anno l'obiettivo reale è quello di puntare alla vittoria di entrambi i campionati. Direi di non perdere altro tempo, come sempre, se vi piace questa serie vi invito a lasciare un bel mi piace, a iscrivervi al canale ovviamente, a cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi contenuti e qui sotto nei commenti, prima di iniziare il gran premio ovviamente, quindi in questo esatto momento, scrivete quali sono i vostri pronostici per questa gara e per questa stagione. Non perdiamo altro tempo, continuiamo e scendiamo in pista per le nostre prove libere. Ci siamo, Sakir, prove libere, pronti a scendere in pista, andiamo a scegliere il nostro Antonio Giovinazzi e il nostro Max Chilton, dovremo essere molto migliori quest'anno nello sviluppare il setup delle vetture, andiamo a scegliere proprio il nostro setup per questa gara. Gomme gialle per Antonio Giovinazzi, gomme rosse per Max Chilton, proseguiamo e scendiamo in pista per le prove libere. Facciamo subito scendere in pista il nostro Antonio Giovinazzi, per lui assetto da qualifiche, andiamo quindi a dare un'occhiata all'assetto che è già preimpostato per Chilton, uguale assetto da qualifiche, quindi andiamo per lui con tre giri gomma rossa, mentre per Antonio Giovinazzi andiamo naturalmente a cambiare in assetto da gara, scelta delle gomme gomme gialle. Lo mandiamo in pista, noi ci rivediamo direttamente all'inizio delle nostre qualifiche. Ed eccoci in pista per le qualifiche, pronti per il Q1 qui a Sakir, prove libere che sono andate per noi alla grande con uno splendido primo posto per Antonio Giovinazzi con gomme gialle e un buon sesto posto per Chilton, abbiamo sviluppato tutte le conoscenze che ci servono a livello 1, quindi andiamo a selezionare ovviamente gomme super morbide assetto da qualifiche per Antonio Giovinazzi, gomme super morbide assetto da qualifiche, anche per il nostro Frederic Vesti setup delle vetture, entrambi tutto eccellente, 98% per Giovinazzi, 98% anche per Frederic Vesti a questo punto. Scendiamo in pista e prendiamo parte alle qualifiche, proviamo a scendere subito in pista, non è facile fare un solo giro, bisogna ammetterlo, è un giro di quasi due minuti, quindi siamo 8 minuti, vorrebbe dire all'incirca 6 minuti, quindi non riusciamo a riscendere in pista probabilmente, quindi no, ho cambiato idea, a questo punto aspettiamo al termine della sessione, facciamo migliorare la pista. Vesti sul riscaldamento perfetto, è alla penultima curva, non ha grande traffico, andiamo a controllare anche l'effetto scia per il nostro Antonio Giovinazzi, che riuscirà tranquillamente ad effettuare il suo giro, a iniziare il suo giro, anzi sarà uno degli ultimi a iniziare il giro cronometrato per le sue qualifiche, sul riscaldamento è perfetto anche per Giovinazzi, andiamo a seguire il giro del nostro Frederic Vesti. Vesti sta andando a chiudere, purtroppo è lontano, a 7 decimi dopo due settori, però per i tempi che sto vedendo possiamo giocarci l'ingresso nel Q2, con Vesti che è 15esimo appena salvo, e purtroppo Giovinazzi lo butterà fuori perché per ora sta facendo il giro migliore, a 5 decimi Antonio Giovinazzi nel secondo settore, dopo il secondo settore, quindi Vesti sarà sicuramente eliminato dal compagno di squadra, a meno che non sia Giovinazzi a fare un brutto errore, ma per i tempi che sta facendo dovrebbe essere tranquillo di passare. Ottavo, ottavo Giovinazzi, quindi butta fuori proprio il compagno di squadra che purtroppo è solo in sedicesima posizione. Eliminati Vesti, Schumacher, Van Dorn, Rossi Latifi, Benito, Lopez, Garro, e non ho idea di chi sia l'ultimo eliminato, lo vedremo direttamente sulla griglia. Scendiamo in pista per il nostro Q2, abbiamo quindi solo Antonio Giovinazzi. Q2 che inizia, peccato, speravo di riuscire a passare con entrambe le vetture, che Vesti facesse qualcosa di meglio. Dobbiamo effettuare la stessa strategia di prima, aspettiamo al termine per provare a passare il taglio. Surriscaldamento è perfetto, pronto ad iniziare il suo giro. Il nostro italiano, speriamo, riesca a confermare il risultato raggiunto durante il Q1 e quindi assicurarsi una posizione per passare nel Q3. È lontano Antonio, sei decimi e purtroppo collea nove decimi di svantaggio da De Vries per la decima posizione. Vediamo come chiude il nostro Antonio Giovinazzi, leggermente disturbato da una vettura che si mette all'interno e ci disturba nel nostro giro. Lui nel giro di rientro, Giovinazzi chiude in nona e passa comunque nel Q3. De Vries, ancora una volta in prima, Giovinazzi nono, passa nel Q3. Eliminati, Caio Collè, Callum Milot, Liam Lawson, Lucas Hauer e Norman Nato. Passiamo nel Q3 con Antonio Giovinazzi, proseguiamo e prendiamo parte all'ultima sessione di qualifiche. Come in precedenza, naturalmente aspettiamo proprio all'ultimo per permettere alla pista di migliorare, di migliorare il grip e quindi di avere le condizioni migliori per effettuare il miglior giro possibile. Sul riscaldamento è buono, purtroppo c'è mancato qualcosa a traffico davanti Giovinazzi, ma dovrebbe rientrare ai box. Ora Dan Tictum, infatti è così, quindi pista libera per Antonio Giovinazzi. Speriamo riesca a tirare fuori un buon giro. Dopo due settori, Giovinazzi a 385 millesimi. Se mantenesse questo distacco sarebbe una straordinaria quarta posizione. Non sarà assolutamente facile, la nostra vettura manca ancora qualcosa, soprattutto in un circuito come questo, ma Giovinazzi con la sua esperienza sta limitando i danni, va a chiudere il suo giro e chiude purtroppo in decima posizione. Purtroppo ultima posizione in questo Q3 con Sirotkin che si prende la pole position davanti al compagno di squadra. Avrei preferito tanto partire con la gomma gialla e quindi in undicesima posizione, invece solo decima dovremo per forza partire con la gomma rossa. Diamo un'occhiata alla griglia di partenza. Sirotkin-DeVries, quindi doppietta Williams in queste qualifiche, poi Hart e Dams con Gommendi e Thierry, Aberdeen-Drugovic, Novalac e Mazepin, Tictum e Giovinazzi, poi Collè-Eilot, Lawson-Hower, Nato-Vesti, Schumacher-Vandorn, Rossi-Latifi, Benito-Lopez-Garro e Leo-Hast per chiudere la griglia. Proseguiamo e scendiamo in pista per la nostra gara. Ci siamo, siamo pronti per la nostra gara. Andiamo a scegliere le nostre conoscenze. Gomme morbide e assetto da gara per entrambi, perché voglio valutare come vanno le gomme gialle. Naturalmente dobbiamo valutare quanto dovrà tenere queste rosse Antonio Giovinazzi, che durano dai 12 ai 14 giri. E ora valuteremo sulla vettura di vesti quanto all'incirca durano le gomme gialle, che durano dai 26 ai 28, gara da 29 giri. Probabilmente più una gara da doppio treno di gomme rosse, sembra che sia abbastanza facile gestirle. Con Giovinazzi probabilmente cercheremo di farle durare il più possibile quelle rosse per poi montare anche un altro treno di rosse. Potremo montare un altro treno di rosse per arrivare fino in fondo. È probabilmente la strategia migliore. L'unico problema è che magari questa gomma potrebbe surriscaldarsi. Però io direi di partire con entrambi, con le gomme rosse, e scegliere a questo punto con entrambi la strategia della gomma super morbida per darci un aumento di prestazione. Sarebbe uno spreco montare la gomma gialla, visto che dura così tanto, ma non possiamo praticamente sfruttarla al meglio. Stile di guida ovviamente attacco, modalità del motore. Modalità alta e pronti a iniziare la nostra gara. Si inizia! Si accendono le luci. Decimo Giovinazzi, sedicesimo Vesti. Pronti a partire. Si spengono le luci. Parte il Gran Premio. Bruttissima la partenza di Antonio Giovinazzi, che perde subito. Una posizione in undicesima da dietro. Sono aggressivissime anche Vesti. Vesti addirittura in penultima posizione. Giovinazzi continua a perdere posizione. Addirittura scende in sedicesima, diciassettesima. Partenza da incubo per la 1 in 1 Racing Team, con Vesti quasi in ultima posizione. Giovinazzi che ha perso sette posizioni in partenza. E qua è difficilissimo sorpassare. Sarà un incubo questa gara dopo questa partenza. Vesti in penultima. Sta lottando per non essere in ultima. Giovinazzi che si riprende una posizione. Ma ricordo questa gara proprio perché era un incubo. Un continuo sorpassarsi. Un trainino difficilissimo da sciogliere. Vesti in ultima posizione. E Giovinazzi nuovamente sceso in diciassettesima. Addirittura in diciottesima. Continuare a infilarlo. A destra e a sinistra. Che partenza da brivido. Questo non è l'inizio che volevamo per la nostra stagione. Ultimo giro per Giovinazzi. Ultimo giro. Siamo imbottigliati. Giovinazzi diciottesimo. Vesti diciannovesimo. Siamo assolutamente imbottigliati. Dobbiamo provare a cambiare la nostra strategia. Perché non è possibile. Non è possibile rimanere bloccati così nel traffico. Giovinazzi si ferma alla fine del giro. Vesti farà uno barra due giri. Poi lo faremo fermare. Per effettuare anche lui il pit stop. Montare gomma gialla. E arrivare fino in fondo. È l'unica strategia che mi viene in mente. Per cercare di liberarci da questo gruppetto. Ma stiamo perdendo un'infinità di tempo. Nelle lotte. Nelle retrovie. Quella brutta partenza da parte dei nostri due piloti. Giovinazzi sicuramente non ha giovato. Anzi non mi sarei mai aspettato una partenza così basso livello. Da parte di entrambi nella stessa gara. Ora proviamo a prendere una scia. Utilizzare quella pochissima batteria che abbiamo. Pit stop già selezionato per Giovinazzi. Con vesti facciamo un giro in più. Ci fermeremo anche con lui per montare gomma gialla. Dobbiamo tentare una strategia alternativa. Perché in questo momento è impossibile pensare di rimanere così imbottigliati nel traffico. È impossibile sorpassare in questo circuito. Le Williams là davanti stanno facendo il vuoto. Dave Rees si è preso la vetta. Sta staccando il compagno di squadra Sirotkin. Che a sua volta sta staccando Aberdeen. Penso che la Williams per come sta facendo vedere di essere in questa prima fase. In questa prima fase della gara, della prima gara, abbia una vettura per dominare il campionato. Giovinazzi si ferma per il suo pit stop. Speriamo nessun problema. Ricarichiamo la batteria al 100%. Si prende ovviamente l'ultima posizione. Però è normale che sia così ovviamente. Sapevamo ma almeno può pensare di spingere, di effettuare un undercut su tanti altri piloti. Sfruttiamo tutta la batteria per cercare di guadagnare il più possibile nei rettilinei. E andiamo anche tra pochissimo a selezionare il pit stop per il nostro Frederic Vesti. Che effettuerà la stessa strategia del compagno di squadra. Ora Giovinazzi qui può spingere. Fermiamo anche Vesti per montare gomma gialla. Naturalmente ricarica della batteria al massimo. Andiamo a riparare anche il componente. Visto che in questa mod non si spendono secondi per riparare il componente. Vesti si andrà a fermare anche lui. Purtroppo penso che a brevissimo si fermeranno anche tutti gli altri. Quindi non guadagneremo così tante posizioni. Vedo che tutti quelli con gomma rossa sono proprio al limite. Si ferma, no, non si ferma De Vries. Si ferma Sirotkin per primo che quindi cerca l'undercut sul compagno di squadra. Andiamo a seguire Frederic Vesti che ora andrà a sfruttare la batteria proprio nella ultima curva. Prima di rientrare ai box, si sono fermati in tanti purtroppo per montare la gialla e quindi molto probabilmente Giovinazzi. L'undercut di Giovinazzi non serve a granché. Anzi, è in penultima posizione davanti al compagno di squadra. Vesti ora con tutta la batteria a sua disposizione può cercare di sfruttare al meglio questo vantaggio per recuperare sul compagno di squadra. Andiamo in risparmio con Giovinazzi perché ha aumentato tanto le temperature delle sue gomme. mentre Vesti continua a spingere sulla sua batteria, cerca di rimontare sul compagno di squadra. La nostra strategia ora è per superare tutti quelli e effettuare un undercut nei confronti di tutti coloro che hanno ancora gomma rossa oppure che hanno gomma gialla e dovranno fermarsi per montare la gomma rossa per terminare la gara. Antonio Giovinazzi inizia il ventesimo giro. È risalitore in quattordicesima posizione ma fino ad ora una gara veramente noiosa ma soprattutto una gara in cui il passo per noi facciamo veramente fatica a raggiungere un buon passo. Possiamo ancora sperare forse in qualche punto molto difficile perché coloro che non hanno effettuato il pit stop sono un po' troppo avanti probabilmente. Lawson, Eilott, Auer, forse solo Schumacher potremmo pensare di passare. Abbiamo dietro soprattutto Thierry che è veramente tanto pericoloso per Antonio Giovinazzi. Stiamo provando a spingere per raggiungere là davanti Tictum che però è un passo per noi leggermente troppo veloce. Vesti al contempo è riuscito in diciottesima posizione a risalire ma non riesce a passare la nostra vecchia conoscenza e il suo vecchio compagno di squadra Clement Novalac che li sta facendo ampiamente da tappo in questo momento. Fino ad ora brutta gara per l'ultimo vincitore di una gara in Formula 2. Il compagno di squadra lo sta nettamente battendo come passo. Attenzione perché Giovinazzi rischia di subire il sorpasso in questa situazione da tiri e allora utilizziamo la modalità ibrida per cercare di riallontanarci, di prendere un po' di vantaggio e di riavvicinarci all'Ouson che ha effettuato il pit stop. Purtroppo è davanti Giovinazzi che è risalito in undicesima posizione ma purtroppo ora tutti hanno già effettuato il loro pit stop. Dave Rees unico con strategia due soste è riuscito a fermarsi nuovamente e a terminare comunque di fronte al suo compagno di squadra Sirotkin. Grande dominio comunque da parte delle due Williams che stanno facendo una grandissima gara per arrivare a punti quest'oggi. Penso proprio che ci voglia un miracolo oppure che succeda qualcosa là davanti. Inizia il venticinquesimo giro. Ho paura per la gestione gomme di Giovinazzi perché al 38% mancano 5 giri alla fine in questo momento. Ci siamo avvicinati là davanti, il gruppo si è ravvicinato tanto ma soprattutto alcuni hanno grandi difficoltà nel gestire la gomma. Per esempio vedo Drugovic oppure anche Mazepin potrebbero avere grossissimi problemi a 4 giri dalla fine. Secondo me anche Sirotkin per dire potrebbero essere in grossa difficoltà nel gestire la gomma. Addirittura dietro Thierry che ci stava creando problemi tutta la gara si ferma per effettuare un altro pit stop. Là davanti le Williams stanno assolutamente dominando. De Vries ha preso quasi 5 secondi sul compagno di squadra che a sua volta ne ha 14 su Mazepin. Il dominio degli avversari sembra netto. Con Giovinazzi a questo punto puntiamo davvero al fatto che qualcuno là davanti si fermi e gestendo questa gomma riusciremo a rientrare in zona punti. Vesti invece sta dimostrando ancora una volta tutte le sue difficoltà nell'effettuare sorpassi addirittura ora perso contatto da Novalac. Andiamo su Giovinazzi che in questo momento potrebbe effettuare un attacco nei confronti di Lawson e passarlo però Lawson si mantiene all'interno prova la staccata lunga Giovinazzi e riesce a prendersi la nona piazza. Qualcuno là davanti si è fermato quindi ora Giovinazzi è in nona posizione potrebbe pensare di prendere qualche altra posizione non su Collè che è una gomma molto molto nuova e soprattutto anche Lawson ha una gomma nuova là dietro. Se dovessimo riuscire comunque a effettuare il sorpasso là davanti come detto ci sono piloti che hanno una gomma molto molto usurata sembra che stiano gestendo quasi i Collè e Lawson ora Giovinazzi utilizziamo la modalità ibrida per provare l'attacco ma Collè sembra molto veloce ora Vesti è risalito in quindicesima proviamo a fargli utilizzare la modalità ibrida per tentare il sorpasso su Novalac ancora una volta Novalac però stacca molto più forte però stavolta Vesti si prende l'interno e finalmente si riesce a prendere la posizione nei confronti dell'ex compagno di squadra a risalire in quattordicesima posizione. Giovinazzi intanto è risalito in settima posizione è riuscito anche a staccare leggermente Lawson e Mazepin che si è fermato ha montato una gomma rossa e ora sta andando ad attaccare Lawson e molto probabilmente attaccherà anche noi. Giovinazzi sta andando ad iniziare l'ultimo giro modalità motore alla mass alta e modalità stile di guida al massimo andiamo anche a mantenerci questa modalità RS per la fine della gara Lawson continua a difendersi alla grande da Mazepin ora facciamo spingere anche il nostro Vesti che è in quattordicesima posizione purtroppo si è staccato anche da Novalac difficilmente riuscirà ad arrivare all'attacco andiamo in modalità motore alta anche con lui ma come vedete troppo troppo lontano purtroppo anche dalla zona punti. Giovinazzi sta provando a fare un miracolo a mantenere quella settima posizione e Gommendi davanti sta gestendo su Collè dietro che è una gomma molto più nuova. Giovinazzi andrà ad utilizzare tutta la sua modalità ibrida alla fine per tentare sia di difendersi dietro da Lawson che magari attaccare la davanti se qualcuno dovesse finire il carburante siamo proprio alle ultime curve con Antonio Giovinazzi con De Vries che fa il giro veloce proprio all'ultimo giro e va a completare il suo dominio nei confronti del compagno di squadra ora Giovinazzi va ad utilizzare tutta la sua modalità ibrida attenzione qualcuno ha finito il carburante ed è Gommendi che purtroppo ha una gomma strausurata quindi ci prendiamo la sesta posizione Giovinazzi conclude in sesta posizione un'ottima sesta posizione per lui Vesti va ad utilizzare tutta la sua modalità ibrida per difendersi là dietro da Drugovic non riesce a guadagnare qualche altra posizione tanto da migliorare per Vesti non solo per la vettura controlli da parte della FIA naturalmente nessuno penso che sia a rischio di infrazione ad inizio stagione chiude quindi la gara De Vries con il massimo dei punti anche giro veloce davanti al compagno di squadra Sirotkin e Latifi poi Aberdeen con le Giovinazzi Lawson Eilott Gommendi e Auer e poi Mazepin addirittura fuori dalla zona punti con Lopez Garro, Novak Vesti, Drugovic Thierry, Schumacher Tictum, Nato Van Dorn, Leo Haast e Alexander Rossi. Questa la classifica piloti che ovviamente riflette i punteggi di questa gara questa la classifica costruttori Williams in prima davanti all'Aitec, alla Prem, alla Art e la One in One Racing Team per ora solo in quinta posizione proseguiamo e torniamo al nostro resoconto scuderia. Eccolo il resoconto scuderia aumenta il morale alla grande quello di Antonio Giovinazzi purtroppo diminuisce leggermente quello di Frederic Vesti che si può dire non ha fatto una bella gara infatti non è felice neanche il nostro presidente solo quinti perdiamo l'un per cento di commerciabilità perdiamo un milione di euro in questo fine settimana proseguiamo e torniamo a questo punto alla nostra dashboard ed ecco c'è la nostra dashboard primo compito come sempre meccanici epistop andiamo a vedere le possibili assunzioni andiamo ad eliminare i profili che non ci interessano questi tre profili sono interessanti bombaggi 90 di energia con un 12 in gomme che è bassino purtroppo 14 in rifornimento che non ci serve solo un 16 in cric anteriori quindi lo rifiutiamo abbiamo poi mesiti con un 9 in gomme però un buon 15 in cric anteriore 14 in cric posteriore l'11 riparazione al momento non ci serve perché deve essere combinato un buon valore di gomme quindi lo rifiutiamo per quanto riguarda ui esboc 18 in gomme 15 in cric posteriore 17 in riparazione con 87 di energia 17 mila di costo per gara direi di andare ad assumerlo però dobbiamo sostituire uno degli attuali andiamo a sostituire il renzitelli firmiamo il contratto questa sarà la nostra squadra meccanici per il prossimo gran premio andiamo a questo punto realmente i messaggi di posta abbiamo tutti i messaggi del fine settimana ma soprattutto l'intervista con mark use di f1 magazine il presidente della dams che non ha peli sulla lingua ti ha definito totalmente incapace come rispondi non mi interessano questo tipo di critiche penso che le critiche migliori e quelle su cui realmente dobbiamo concentrarci sono le critiche costruttive queste non sono critiche costruttive andare l'uno contro l'altro senza un motivo preciso quindi preferisco sinceramente non abbassarmi a questo livello e sicuramente dormirò molto tranquillo stanotte come tutte le notti perché sono tranquillo che il lavoro che sto facendo sia totalmente finalizzato a raggiungere il maggior risultato possibile per la nostra scuderia progettazione del nuovo pacchetto freni terminata per questo prossimo gran premio andiamo prima alla ricerca talenti perché abbiamo il rapporto per la 6 beniamons pilota della mp motorsport quindi presuppongo in formula 3 che non è male come opinioni come terzo pilota quasi tre stelle potremmo magari tenerlo in considerazione andiamo in messaggi di post abbiamo il rapporto appunto di la 6 beniamons ma soprattutto il pacchetto freni completato andiamo a montare i nuovi componenti possiamo andare immediatamente anche direi a progettare un nuovo componente poi darò un'occhiata ai vari elementi del per il miglioramento dei componenti attuali avevamo detto che avremmo sviluppato un nuovo pacchetto per il cambio mancano 19 giorni al gran premio di monaco andiamo a sviluppare questo nuovo pacchetto e direi anche di rischiare in maniera minima e di andare a selezionare un pacchetto cambio con un minimo elemento di rischio spendiamo scusate 100 mila euro grazie allo sconto e possiamo proseguire sarà pronto tra 14 giorni 17 ore lo miglioreremo poi non appena arriverà e ci concentreremo su un nuovo elemento daremo un'occhiata più tardi però presuppongo di sviluppare un altro alettone posteriore progettazione del cambio terminata andiamo alla nostra monoposto andiamo a montare il nuovo componente a questo punto progettiamo un nuovo componente come detto andiamo per l'alettone posteriore questo sarà il nuovo alettone posteriore da costruire spendiamo solo 48 mila euro li spendiamo immediatamente abbiamo talmente tanti soldi che sinceramente penso di andare anche nel qg e andare a sviluppare qualche nuovo ramo delle nostre strutture sicuramente andiamo a sviluppare centro di ricerca talenti che ci può essere molto utile per trovare nuovi buoni piloti per la nostra scuderia poi andiamo a potenziare anche il centro di metodologia 7 milioni di euro per noi che diventano 6 milioni 650 mila euro e abbiamo speso già la bellezza di circa di oltre 10 milioni direi a questo punto di andare a sviluppare anche la struttura di progettazione 15 milioni di euro che diventano 14 milioni 250 mila scendiamo a 29 milioni di euro a questo punto ci fermiamo così e valuteremo in seguito se spendere altri soldi di questi quasi 30 milioni che abbiamo ancora nel nostro conto ci siamo siamo al nostro fine settimana di gara abbiamo terminato con questo primo episodio primo gran premio vi dirò la verità non è andato esattamente come speravo infatti siamo al di sotto del nostro obiettivo quindi dobbiamo stare molto attenti perché ci sono tante vetture che competono in questa stagione e noi dobbiamo migliorare tanto la nostra potremmo sicuramente migliorare tanto man mano che la stagione va avanti dobbiamo anche sperare nelle variabili del meteo che ci hanno tanto aiutato nella scorsa stagione speriamo quindi di poter migliorare ma soprattutto di vedere un vesti che ritorni a livello dell'ultima gara della passata stagione altrimenti dovremmo realmente pensare di sostituirlo e quest'anno abbiamo un pilota di riserva che è di ottimo livello max chilton tanta esperienza potrebbe essere una valida alternativa nel caso vesti continui con queste prestazioni molto altaneanti se vi è piaciuto questo gran premio ovviamente lasciate un bel mi piace per sopportare la serie iscrivetevi al canale cliccate sulla campanella per rimanere sempre aggiornati su nuovi contenuti commentate qui sotto fatemi sapere secondo voi questo gran premio come è stato cosa avremmo potuto fare di più o di meno quindi detto questo ragazzi vi do appuntamento alla round numero 2 cp di monaco siamo solo al secondo round su 10 in questa stagione ricordiamolo 10 gran premi abbiamo tutto il tempo per migliorare per risalire la china quindi nessun tipo di problema nessun patema d'animo testa bassa lavoriamo vedremo nel round numero 2 se davvero saremo già riusciti a dare una spinta ulteriore a questa stagione vi ringrazio per la visione di questo gran premio e alla prossima ciao willers ciao 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 ciao